Uè! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi come vedete alle mie spalle, oh oh, qualcosa è andato storto! Pronta la patch notes 9.4 per questa season 9, la patch più importante! La andiamo subito a vedere nel dettaglio e ovviamente ragazzi la cosa più interessante pubblicata ufficialmente è l'arrivo del nuovo fucile pesante tattico in varianti epiche e leggendario. Il tattico è tornato in una veste tutta nuova, fai un salto e prova subito le versioni epiche e leggendarie. I danni 83-87, 1,5 colpi al secondo, quindi spara davvero molto molto velocemente. Contiene 8 pallottole, quindi caricatore da 8, per 2,25 il moltiplicatore dei danni alla testa. Si può trovare ovviamente a terra, nei bottini, nei forzieri e nei drop. Il fucile di precisione semi-automatico invece adesso ha un ingrandimento minore utilizzando il mirino. Si tratta di una miglioria per garantire un'esperienza di cecchinaggio molto più fluida. Modifica anche per l'efficacia della lunga gittata del fucile pesante da combattimento. Quindi il combat ragazzi hanno deciso di ridurre i danni da media distanza. 2,44 unità che sarebbe la distanza non è variato. 5 metri è stato portato a 4,39 metri, 9,7 metri a 6,8 metri e 19,50 metri a 11,70 metri. Quindi non si potrà più sparare con il combat da lontano. È praticamente impossibile fare danno e ci sta veramente tantissimo perché era veramente OP. In magazzino ragazzi il Bolt Action silenziato. Arrivederci è stato un piacere. Non lo vedremo per un bel po' di tempo ragazzi. Ma hanno rimesso il Bolt Action normale. Tanta tanta roba. Uno dei miei fucili da cecchino preferito. Modifica anche per il fucile pesante a tamburo che adesso ha la giusta curva di ricaduta del danno quando si vanno a colpire le strutture. Hanno corretto un altro bug che impediva invece di distruggere le piattaforme da lancio con un piccone. A volte succedeva. Da adesso ragazzi raccogliere un oggetto durante la partita non riempie più la pila che conseguentemente eccedeva e quindi lasciava cadere l'oggetto che avevamo in quel momento selezionato. Anziché provocare la caduta dell'arma assegnata sarà l'eccedenza a cadere. Credo che se noi prendiamo... Non l'ho capito. Non riempie più la pila. Cioè se noi prendiamo... Noi abbiamo 5... Adesso vi spiego. Abbiamo 5 shieldini. Per terra ce ne sono 3. Noi li recuperiamo. In qualsiasi punto abbiamo selezionato l'arma in quel momento. Ci sale la pila degli shieldini a 6. Ma non ci viene droppata l'arma in cui abbiamo... L'arma che stiamo selezionando con i due shieldini. Quindi è una figata pazzesca. La vedrete in game. È più facile da vedere che da spiegare ragazzi. Hanno risolto un botto di bug. Hanno risolto un problema con i droni da consegna. Quelli caldi che rendevano le casse di rifornimenti invisibili. Ancora modifiche per i droni da rifornimento che non rimarranno più fermi dopo essere bloccati a lungo. Le porte dei progetti adesso vanno renderizzate in maniera costante. Mentre il giocatore costruisce. Quindi ragazzi modifiche anche per quanto riguarda l'editing. I cespugli non impediranno più ai giocatori di essere curati dal cura bomba. Finalmente ragazzi. Finalmente le splash in poche parole funzioneranno anche per chi ha i cespugli. Le splash adesso si posizionano finalmente nello slot più a destra. Perché era un problema che sinceramente c'era per chi come me ha la selezione dei consumabili. Tutto a destra. I giocatori non possono più usare il salto dal muro dai campi di mais. Mentre utilizzano una bomba ombra ragazzi. Quindi modifiche anche per le bombe ombra. E ovviamente arrivano anche le competizioni. Annunciato ufficialmente il torneo coppa xbox. Il 20 e il 21 luglio. Un milione di dollari in cash ragazzi. Si gioca in singolo. Aperto a tutti i giocatori che utilizzano xbox one. E non richiede il raggiungimento di alcuna divisione in arena. Il montepremio verrà distribuito tra tutti e le regioni dei server. Il 20 luglio ci sarà il round numero 1. E il 21 luglio il round numero 2. Che sono i migliori 1500 giocatori. Ma arriva anche un altro torneo. La coppa cash a squad. Il 21 luglio. Un milione di dollari in cash. Si giocherà a squadre. Per poter partecipare i giocatori devono aver raggiunto la lega campioni nell'arena. Quindi mi raccomando i 300 punti. Anche qua si giocherà il 21. Per la... Per le qualifiche. E probabilmente... Ah no no no. Si giocherà solo il... Il 20 per le qualifiche. E anche qua il 21 invece. Per i migliori che si potranno portare a casa. Il montepremio. Da adesso ragazzi. Ora i giocatori possono scegliere una bandiera. Da mostrare nel loro profilo carriera. E' possibile selezionare o modificare la bandiera dal profilo giocatore. E dopo aver modificato o selezionato la bandiera. I giocatori non la potranno più modificare per i prossimi 30 giorni. La bandiera di un giocatore è visibile a tutti. Nel profilo del giocatore. E nelle classifiche del torneo. Per quanto riguarda invece le prestazioni. Hanno migliorato le prestazioni delle zipline. Hanno migliorato le prestazioni per il barile da bevuta. E hanno migliorato anche lo skydive iniziale. Quindi ci sta un botto. Modificati il suono. Ridotto il suono per alcune esplosioni. Che davano effettivamente fastidio. E una carrellata ragazzi di modifiche. Anche per la versione mobile. Hanno risolto il problema che si verificava nella chat vocale. Dove non si sentiva più. E' possibile aprire il forziere dell'hotel di Neopinnacoli. Che era bugato. Il layout dell'interfaccia indicatore mappa. Non verrà più mostrato nel bus della battaglia. E una spatafialla di altri aggiornamenti. Aggiungono invece in save the world. Ma io sto guardando qua ma in realtà la camera è qua. L'isola di Kevin fluttuante ragazzi. Costruisce una fortezza fluttuante sulla nuova isola di Kevin. Quella che in realtà c'era nella season 6. Se non ricordo male. E hanno messo anche ragazzi questo oggettino che è il generatore di palle. Giochiamo. Aggiunti della palla con fisica di movimento nel tuo mondo di gioco. Per creare una varietà di modalità e di interazioni di gioco ragazzi. Insomma tantissime modifiche. Anche per questa patch arrivano anche le nuove isole. Le isole pubblicate non vengono più ruotate di 180 gradi sulla minimappa. E nel gioco della creativa aggiunte nuove opzioni di danno ambientale. Solo costruzioni giocatori. Quindi durante una partita i giocatori possono danneggiare le strutture costruite dai giocatori. Aggiunta opzione danno edificio. Determina di chi ha l'abilità di danneggiare le strutture costruite dai giocatori. Realizzate nel corso della partita. Modifichi anche dei bug per la modalità creativa. Le strutture create dai giocatori possono essere modificate prima del posizionamento. I giocatori non saranno più sottoposti alla fatica d'assalto quando la fatica d'assalto è disattivata. E i veicoli autonomi non passeranno più attraverso gli oggetti. Per questo ragazzi modificano anche il telefono nella modalità creativa. Hanno corretto un bug in realtà. Il geyser della galleria condotti d'aria da adesso interagiscono correttamente quando si utilizza il telefono. Ha aggiunto il prefabbricato cratere di Kevin, il gelato alla galleria dei consumabili. Hanno aggiunto la porta da calcio alla galleria sport, la cornice pizza, l'albero alla galleria delle montagne maledette, i banconi blu, i pavimenti alla galleria, i marciapiedi alla galleria strada B e hanno modificato anche un bel po' di bug. Da adesso ragazzi hanno corretto il sacco dell'immondizia che spuntava attraverso gli scalini di palmetto. La barra della salute non appare più copiando il cespuglio nella galleria natura del deserto. La galleria cubo Kevin da adesso ha due versioni del cubo e hanno sostituito alcune unità di soffitto del prefabbricato dei grandi magazzini. Per quanto riguarda di nuovo i dispositivi hanno aumentato a 24 il numero di canali attivatori disponibili e a 30 il numero di ricevitori disponibili. Hanno aggiunto il generatore di palle come state vedendo dietro di me e hanno messo un fottio di migliorie che io vi invito ad andare a guardare ragazzi nel post ufficiale sul sito di AP Games relativo alla patch 9.4. Modificate anche ragazzi gli interfacce utente e social in chiusura. Hanno aggiunto le descrizioni per le opzioni ignora squadre per il danno e ignora squadre per prossimità dell'ordigno in modo che si chiarisca in questo modo come si influisce sulla filiazione delle squadre per l'interfaccia e hanno corretto un errore di ortografia nell'impostazione permetti di rilasciare oggetti. Insomma ragazzi siamo arrivati alla patch 9.4. Per quanto riguarda il battle royale adesso ci sarà l'evento questo sabato ma passerà anche il compleanno settimana prossima. Quindi mi raccomando tutti pronti raccogliete i fortbite perché dovete prenderli tutti e 100. Se volete sembrerebbe il premio che ci hanno garantito. Io vi ringrazio per avere guardato questo video sulla patch notes. Mi raccomando un pollicione in su iscrivetevi al canale. Chat non sto andando via. Noi ci vediamo presto. Ciao. E non mi parte l'altro. E non mi parte l'altro. E non mi parte l'altro. Perché non parte l'altro? E non mi parte l'altro.